Fans from Hampard Meran, cari amici da Palabano, difusi di Hampard Meran Alperia, willkommen in Serie A 1 per Frenzby gegen Tossano. Benvenuti alla partita casalatura di Serie A 1 per Oss contro il Tressano, di Manchester Sarshaloven. Le formazioni Tressano, 2 Gallardo, 3 Negon Marco, 7 Deleman, 4 Fiste, 10 Campino, 13 Museo Patero, 15 Negon Simon, 18 Giango, 21 Tatteles, 21 Sampaio, 24 Stabedini, 69 Folgera, 1 Frenzby, 97 Moser Nitella, 1 Toria y Amore, Jimny Pshironka, would like to welcome the 24, Basi Cendera 23, Redensteiner Fabian 22, Uffermini 22, Stoic Stefan 29, Stoic Pinnas 20, Stricker Lallin Walter, Nascati, Troppe 20, Stricker Lukas 20, Stricker Lukas 20, Stricker Lukas Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.